Per sinistra, 7, 30, di sinistra, 3 vai, corta, pulito! Lo sport e l'agonismo hanno sempre fatto parte della mia vita. Prima di correre nei rally la mia grande passione però era lo sci. Poi ho scoperto i rally e devo dire che nell'abitacolo le emozioni sono uniche. Grazie a Paolo e all'affidabilità della 207 Super 2000 siamo riusciti a vincere tutto quello che potevamo vincere. La Peugeot per me è diventata una famiglia e ho scelto Peugeot anche nella vita di tutti i giorni. Ho scelto la Peugeot 3008 perché è molto adatta per gli spostamenti durante i nostri viaggi. Abbiamo sempre molte valigie, dobbiamo sempre caricare molte attrezzature, per cui questa macchina è assolutamente perfetta. Grazie al Grip Control della 3008 posso anche salire in sicurezza in montagna. Il Grip Control l'ho conosciuto molto bene perché ti permette di guidare in sicurezza in diverse situazioni, non solo sulla neve ma anche su percorsi viscidi, sulla terra o in situazioni estreme come può essere la sabbia o l'acqua. Che bello scoprire che c'è Peugeot anche qui in Alta Badia. C'è anche la 3008 come la mia in allestimento Rossignol Experience, qui è proprio quello che si vuole. Ciao Anna. Ciao. Benvenuta al Rossignol Demo Tour. Grazie. Vuoi iscrirti al nostro database? Volentieri. Adesso puoi ritirare il tuo scio alla tenda rossa, signor. Grazie, ora vado a sciare. Buona sciata, dopo. Io adesso vado a farmi una bella sciata. Buona sciata. Buona sciata.